Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo superato quella che è stata la giornata delle sorprese con Carlos Alcaraz e quindi io vi ringrazio perché il video di ieri è andato una bomba, una bomba veramente senza senso. Non so se avete visto i numeri e quindi quando succedono queste cose devo ringraziarvi ma significa anche che c'è curiosità, interesse anche da parte vostra nel cercare di decifrare un po' quelli che sono i colpi all'aggiunto Liebanna perché ormai abbiamo capito che siamo in questa direzione, si parla di Lukaku, si parla di Berardi, si parla di Bonaventura, si parla di Pereira, si parla di Bernardeschi e alla fine invece arrivano sempre giocatori che tu li hai mai sentiti nominare e io assolutamente no. E quindi vi ringrazio ma questa nuova linea guida devo dire la verità mi gasa, mi gasa perché sono poi sempre delle scommesse interessanti. Ieri abbiamo visto appunto arrivare Charlie, lo chiamo così perché appunto è così che è stato soprannominato e mi fa anche un po' ridere perché era anche il soprannome di uno dei miei prof del liceo quindi andiamo indietro veramente di un botto d'anni però il nome Charlie mi fa ridere quindi per me Alcaraz da oggi è Charlie. Non si discute, dato che per me in realtà è così, però è un nome meraviglioso. Vedremo se sarà già a disposizione contro l'Inter, vedremo se sarà già possibile impiegarlo, vedremo se ci sarà addirittura magari, guarda, l'ha avuto lì una sorpresa di formazione con lui titolare nel 3-5-1-1 dritto su Cialanoglu. Perché sicuramente sarà una delle possibilità che avremo dato che nelle ultime giornate, ultime ore sarà anche un po' vociferato di quello che poteva essere l'impiego di Ildis ancora in dubbio. Io spero di no, mi auguro di no perché vado a citare uno dei video, dei titoli dei video di post Juventus-Empoli. Non si può lasciare fuori Ildis così. Un'esclusione di Ildis anche da questa partita qui significherebbe che è effettivamente accaduto poi qualcosa di molto grave nello spogliatoio e quindi mi auguro effettivamente che questo possa non corrispondere al vero. Mi auguro di vedere Ildis titolare, mi auguro che la Juventus possa fare una super partita. L'anno scorso a Uomo su Brozovic a San Siro c'era andato Mati Sule, lo ricorderete, e invece in casa in precedenza c'era andato Miretti. La Juventus aveva vinto entrambe le partite con l'Inter l'anno scorso, quest'anno abbiamo pareggiato all'andata e iniziamo a ragionare sul ritorno. Comunque Alcaraz è arrivato, c'è questa clausola di diritto di riscatto, ieri avevamo parlato di 40, no invece ancora di più perché è un prestito oneroso comunque importante sui 4 milioni di euro circa. E ci sarà un diritto di riscatto eventualmente sui 50 milioni di euro. Ci sono tanti, mi sembra una cifra buttata lì, tra l'altro leggevo che più gioca Alcaraz e più si abbassa questa cifra, meno gioca e meno si alza. C'è una roba anche un po' cervellotica che sembra andare in una direzione, cioè un prestito di 6 mesi. Prestito di 6 mesi in cui Southampton si piglia questi soldini, Alcaraz lo sistemiamo perché non va a giocare nella Serie B inglese, va a giocare la Juve e poi vediamo come venderlo questo è stato, vediamo se farò tornare alla base, magari torneranno in Premier. Buono lo so, non ho idea di come siano messi in classifica, però intanto noi godiamoci questo nuovo acquisto che ripeto per me entra nelle rotazioni. Ho detto anche ieri, è un giocatore utile, interessante per cercare di completare quella che è la rosa della Juventus e Alcaraz e figlio delle squalifiche di Pogba, Fagioli e secondo me anche del pareggio tra Juventus e Empoli. Perché senza quel pari lì, non so, magari rimanevano così, magari si aggiustavano, magari si faceva con quello che c'era e invece no, perché siamo andati lì e abbiamo preso questo giocatore. Tutto da scoprire, interessante, ripeto, a me questi colpi gasano perché alla fine l'investimento c'è, perché è un investimento importante per sei mesi, poi però se tutto va bene chissà che non si possa andare a trattare fortemente il ribasso per mantenere il rosa un giocatore che arriva da sconosciuto, che però può iniziare a stupire assolutamente i tifosi. Oggi leggevo un po' che ci sono delle chiacchiere relative al rinnovo di Allegri, perché lo sappiamo, Allegri l'anno prossimo andrà in scadenza, finisce quest'anno, se ne inizia un altro è l'ultimo anno di contratto, scadenza giugno 2025. Ne avevamo già parlato in precedenza, avevamo già affrontato l'argomento e vi dicevo, iniziare una stagione con una torre in scadenza non avrebbe veramente nessun tipo di senso, non ce l'avrebbe. E quindi o quest'estate si cambia o quest'estate si rinnova, cioè le strade sono queste due, oppure inizi davvero con una torre in scadenza e poi vedi nel frattempo che cosa succede. Però mi sembra un po' come, non lo so, vado in dicembre o in gennaio a Londra, ci vado senza ombrello, ci vado con le braghine corte, poi se c'è freddo e piove, vabbè lo scopriamo mentre siamo lì, non è una grande idea. Cioè delle due, ti organizzi prima, cerchi di programmare un po' prima la tua trasferta, ti porti l'ombrello, ti porti i pantaloni lunghi, così nel caso non hai freddo e non ti bagni. Non avrebbe senso buttarsi tanto per. Quindi secondo me quest'estate o Allegri viene sostituito o Allegri rinnova il contratto. Devo dirvi la verità, parlare del rinnovo di Allegri oggi mi sembra una follia, perché non ha alcun senso parlarne oggi, ma non oggi come, no, questa settimana qui. Questa settimana qui non ha minimamente senso. E vi spiego anche il perché. Poi è un'indiscrezione di gazzetta, prendetela con le pinze, con tutto quello che volete, non c'è nemmeno un motivo per cui esce adesso. Secondo me perché oggi è l'ultimo giorno di mercato e si voleva rimanere in tema mercato associando alla Juve del futuro due nomi, uno chiacchierato da tempo e uno inedito. Quello chiacchierato da tempo è Cobb Mainers, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno nella live, anche lì vi ringrazio per un grandissimo supporto nella diretta dell'altro giorno. Siamo tornati col botto, quindi grazie mille anche a tutti i ragazzi che si sono abbonati. Cobb Mainers è un giocatore importante, interessante, che ha un costo elevato e io non so se la Juventus effettivamente questa estate potrà permettersi un cartellino del genere dai 40 milioni a salire. Vedremo perché tra i 50 milioni di Algaraz del riscatto e i 40 di Cobb Mainers qui si dà tutto per scontato che la Juventus questa estate avrà i soldi. Punto di domanda, per me non è assolutamente così, vedremo, ma credo che le linee guida della Juventus siano diverse da quelle che stiamo leggendo un po' dagli organi di informazione. Vediamo, perché secondo me colpi del genere non ci saranno. Il nome inedito invece è quello di Riccardo Calafiori, che è un giocatore che a Bologna quest'anno sta facendo non benissimo di più, assolutamente di più, e che diventa chiacchieratissimo per tutti i top club in Italia. Anche qui, boh, il primo di febbraio deve ancora chiudere il calcio mercato invernale perché chiude praticamente tra 10-11 ore e noi siamo qui a parlare del mercato estivo della Juve con Allegri in panchina che rinnova. A me sembra che si stia correndo un po' troppo, devo dire la verità, si sta correndo un po' troppo. Aspettiamo, soprattutto non parliamo di queste cose in questa settimana. Era giusto parlare del mercato invernale, erano le ultime ore, dovevamo farlo, alla Juventus serviva effettivamente qualcosa, è arrivato Charlie e adesso mettiamo via tutto, mettiamo tutto da parte e ci torniamo a concentrare su quello che è il derby d'Italia, su quello che è uno scontro diretto, ripetiamolo tutti insieme, è uno scontro diretto. Una partita da dentro fuori e io vi ho già detto che la voglio vivere nel modo più ottimistico e positivo possibile. E cioè, per me non partiamo sconfitti, per me una possibilità di vincere c'è, per me la Juve può andargli a fare tre punti. La Juve non fa tre punti? Ne fa uno? Allora aspettiamo e vediamo cosa fa l'Inter nel recupero, perché l'Inter deve recuperare una partita. La Juve va lì e fa tre punti? È tutto aperto e ci divertiamo. La Juve va lì e perde? Temo che il campionato sia finito, o almeno, campionato legato allo scudetto, poi noi vedremo se dovremo preoccuparci del Milan dietro o se rimarremo comunque lì nel range del secondo posto, ma campionato come adrenalina, possiamo dire così, nel caso lo vedo come finito. Quindi due risultati su tre per tenere tutto aperto e sperare un risultato su tre, che ti dà l'ammazzata tra capo e collo e ti rassegna e ti manda veramente al creatore. Quindi parlare del rinnovo dell'allenatore nella settimana che porta alla partita che ti racconta una stagione intera e intanto pensi all'Americato estivo per me è una cavolata epocale che non ha assolutamente motivo di esistere. Perché chissà che cosa succede da qui a quest'estate, magari la Juventus avrà volontà di pensarci e ragionare in maniera diversa da qui a quest'estate su quello che sarà il destino dell'allenatore. Mi sembra anche solo stupido, dico la parola stupido anche se è una brutta parola, pensare oggi al rinnovo dell'allenatore nella settimana che porta a questa partita qua. Cioè non ha veramente alcun tipo di senso. Per me non esiste nel mondo. Quindi focus da oggi su quella che è la partita. Vediamo se Ken entro stasera parte oppure no. Secondo me a questo punto no, perché piste estere tenderei ad escludere e a scartarle. Piste interne, il Monza ha già preso l'attaccante, ieri a Fiorentina ha preso Belotti. Erano le squadre chiacchierate per Ken, quindi a questo punto immagino che Ken rimarrà la Juventus, che dal punto di vista della Juve secondo me è molto positivo, perché privarsi anche di Ken con Chiesa non al 100% secondo me è giusto. Dal punto di vista dei giocatori mi dispiace perché lui aveva chiesto di andare a giocare di più in vista dell'europeo e dovrà cercare di conquistarsi una maglia azzurra dentro la Juventus. E chissà che non si riesca unire l'utile al dilettevole. Vi dico tra le altre cose che oggi alle ore 14, come tutti i giovedì, c'è doppio passo sulla Bobo TV Channel. Quindi se siete interessati, oggi facciamo un focus principale su due ore di puntata, secondo me un'oretta andrà su un focus principale di quella che è la tematica della settimana, non è l'arrivo di Charlie, bensì Inter-Juve. E io avrò un approfondimento specifico, ve lo dico già, ve lo spoilerò così vi preparate, tra le figure dei due giocatori chiave copertina di Juventus Inter. da parte nostra Vlaovic, da parte dell'Inter Lautaro Martinez. Cercheremo di metterli a confronto e cercare di capire quanto sono impattanti per le due squadre. Non mancate perché secondo me è un confronto veramente molto interessante. Ci vediamo oggi alle 14. Ciao ragazzi!